Cade ancora la Turris tra le mura amiche a cospetto di un crotone forte della sua qualità superiore. Partono bene i corallini seppur privi di Giannone e al tredicesimo trovano il vantaggio con Maniero che corregge in rete una conclusione di Leonetti. I calabresi si riversano in avanti alla mezz'ora Cargbo approfitta di un rimpallo in aria e a tu per tu con Perina lo trafinge per il pareggio. Passano appena due minuti e Gomez di testa ribalta il risultato per il crotone all'intervallo è 1-2. La ripresa si apre subito con la terza rete ospite. Tribuzzi da distanza ravvicinata trafiggia ancora il portiere con un tiro secco sotto la traversa. Reazione Turris al 72esimo ancora con Maniero che di testa accorcia le distanze. Episodio dubbio all'ottantesimo in aria rosso-blu con i giocatori della Turris che reclamano un rigore ma sul ribaltamento di fronte è Chiricò a chiudere i conti sul 4-2. Seconda sconfitta consecutiva per i corallini dopo quella di potenza e peggior difesa del campionato. La trasferta di Cerignola di domenica prossima l'occasione per rilanciarsi.